Ciao a tutti! Oggi vediamo come attraverso una camera sia possibile mettere a fuoco un oggetto nella scena e nello stesso tempo sfuocare tutti gli altri oggetti intorno, quelli più lontani e quelli più vicini. Bene, continuiamo a lavorare nella scena della lezione precedente, però prima eliminiamo l'ultima camera che abbiamo creato, questa la camera numero 3 che è il carrello a seguire la macchina arancione, quindi la seleziono e la cancello. Benissimo! La camera numero 1 e la camera numero 2 ce le teniamo ancora ma le lasciamo spente e ci creiamo una nuova camera, quindi andiamo in layer, new, camera. La messa a fuoco funziona allo stesso modo sia sulla camera a un nodo sia su quella a due nodi e quindi in questo caso posso scegliere la camera più semplice cioè quella a un nodo. Poi dal menu preset degli obiettivi scegliamo come al solito l'obiettivo standard il 50 mm e questa volta però accendiamo il pulsante enable depth of field che è appunto responsabile della messa a fuoco della camera. Benissimo! Lasciamo acceso anche lock to zoom e diamo l'ok. Nel monitor di sinistra andiamo attivare il punto di vista top dall'alto perché come vedremo è quello più utile per mettere a fuoco correttamente gli oggetti. Poi andiamo nella timeline, prendiamo in considerazione la nuova camera, la camera 3, apriamo i suoi parametri, andiamo a vedere dentro i parametri di camera options e anche qui troviamo il parametro depth of field che abbiamo attivato precedentemente nei settings per cui possiamo anche accenderlo, spegnerlo direttamente anche qui nella timeline. Infatti se io clicco qui dove c'è scritto on posso disattivarlo e se ci clicco un'altra volta posso riattivarlo di nuovo. Il parametro successivo, focus distance, lo usiamo appunto per stabilire quale oggetto nella scena sarà a fuoco. Zoomiamo un poco nel monitor di sinistra. Se io aumento o diminuisco il valore di focus distance, come vedete nella vista dall'alto questa linea rosa si sposta avanti e indietro e se appunto io voglio mettere a fuoco un oggetto della scena devo far sì che questa linea rosa si trovi esattamente alla stessa distanza di quell'oggetto. Per esempio se volessi mettere a fuoco la casa che è questo oggetto che si trova qui alla fine del viaretto dovrei far sì che questa linea rosa si trovi esattamente qui. Quindi in quel caso potrei agire su focus distance in questo modo e portare appunto quella linea rosa esattamente qui. In questo momento sono sicuro che l'oggetto casa sarà perfettamente a fuoco. E adesso per far sì che tutti gli altri oggetti nella scena, quelli più lontani della casa e quelli più vicini, vadano fuori fuoco devo agire sul parametro successivo, cioè questo apertura. In questo momento il valore di apertura è particolarmente basso e in questa situazione gli oggetti sullo sfondo e in primo piano sono a fuoco come la casa, cioè in questo momento la profondità di campo della scena è molto grande. E se ora aumento il valore di apertura, lo porto per esempio un valore intorno ai 100, come vedete di nuovo la casa è a fuoco, ma le colline più lontane cominciano a sfuocare. Mentre gli oggetti più vicini alla casa, come la famiglia, i fiori e il viale davanti alla casa sono ancora a fuoco. Ma se ora aumento ulteriormente il valore dell'apertura, lo porto per esempio un valore superiore a 500, a questo punto la casa rimane comunque a fuoco, ma praticamente tutti gli oggetti prima e dopo la casa sono fuori fuoco. Le colline sullo sfondo molto molto sfocate, ma anche gli oggetti più vicini, la famiglia, la staccionata e la strada davanti alla casa sono comunque un poco sfocati. Quindi agendo sul parametro apertura allarghiamo o stringiamo la zona prima e dopo la casa all'interno della quale gli oggetti rimangono a fuoco. Quindi per valori bassi dell'apertura anche gli oggetti più lontani della casa e più vicini della casa sono a fuoco, ma a mano a mano che aumento il valore questo spazio si restringe sempre di più, finché praticamente soltanto la casa rimane a fuoco. E questo spazio all'interno del quale tutti gli oggetti sono a fuoco intorno alla casa si chiama appunto profondità di campo. Bene, però adesso riportiamolo a un valore un po' più realistico, magari intorno ai 100-150, in modo che quasi tutti gli oggetti siano a fuoco e le colline sullo sfondo siano un poco sfocate. Bene, il terzo parametro, Blur Level, aumenta o diminuisce la sfocatura generale, cioè aumentando, diminuendo, come vedete, gli oggetti che vanno fuori fuoco sfocano ulteriormente oppure diminuiscono la loro sfocatura. Però in genere questo parametro si tende a non toccarlo. La profondità di campo si gestisce preferibilmente soltanto con l'apertura, un po' come del resto avviene anche nella realtà, cioè nelle fotocamere e nelle videocamere. Per aumentare o diminuire la sfocatura dello sfondo si apre o si chiude il diaframma della camera, che nel caso delle camere di After Effects si chiama appunto apertura. Bene, tutti gli altri parametri, da Iris Shape fino ai Light Saturation, agiscono soltanto sull'aspetto finale della sfocatura, ma sono quasi del tutto impercettibili e rilevanti, per cui non li prenderemo mai in considerazione. Bene, ovviamente bisogna stare attenti che la messa a fuoco della camera dipende anche dalla posizione della camera, cioè se per esempio io agisco sulla posizione Z della camera, cioè la sposto in avanti o indietro, come vedete la linea rosa della messa a fuoco avanza e indietreggia insieme con la camera. Se per esempio avanzo fino a questo punto qui, adesso gli oggetti a fuoco sono quelli che si trovano in questa zona qui, cioè in questo caso sono due alberi dietro la casa e la casa adesso che non si trova più sulla linea della messa a fuoco è sfocata, come si vede bene qui nel monitor. Bene, adesso che abbiamo capito come si mette a fuoco un oggetto e come si sfocano gli oggetti sullo sfondo e in primo piano, possiamo tornare a lavorare sulle prime due camere che abbiamo creato e attivargli la messa a fuoco e la profondità di campo. Quindi la camera numero 3 che abbiamo creato oggi la cancelliamo, quindi la seleziono e la elimino e riattiviamo la camera numero 1 e numero 2 riaccendendo i due occhiolini qui a sinistra. Bene, se riguardiamo il filmato finale, come vedete nella camera numero 1, che è un carrello da sinistra a destra, abbiamo la zona centrale della scena, quella intorno alla strada, completamente a fuoco, mentre le colline più lontane sono leggermente sfocate. Quindi in questo caso non dovremmo fare altro che portare la distanza della messa a fuoco là dove si trova la strada e aumentare l'apertura in modo tale che le colline sfuochino un po', ma tutto il resto vicino alla strada invece rimanga a fuoco. Per quanto riguarda la seconda camera, che è un carrello in avanti, la situazione è un po' diversa. Noi faremmo in modo che sia all'inizio dell'animazione che alla fine sia sempre a fuoco la famiglia, per cui quando la camera avanza dovremmo far sì che la focus distance indietreggi in modo da rimanere sempre all'altezza della famiglia. Benissimo, quindi iniziamo dalla camera 1. La seleziono, apro i suoi parametri, vado a cercare il parametro depth of field che al momento è su off e lo accendo. A questo punto mi concentro su focus distance, aumento, diminuisco il valore finché quella linea rosa che vedete allontanarsi e avvicinarsi dalla camera si posiziona sull'oggetto che voglio tenere a fuoco. Abbiamo detto che vogliamo a fuoco la zona intorno alla strada, per cui lo porto esattamente a metà della strada e lo lascio qui. Ora aumenterò il valore di apertura finché non vedrò sfuocare un poco le colline sullo sfondo. Quindi agisco su apertura, aumento, io direi di arrivare a un valore intorno ai 100, tipo così. Bene, in questo caso il lavoro termina qui perché la camera spostandosi da sinistra a destra rimane sempre alla stessa distanza rispetto alla strada. Benissimo, ora ci concentriamo sulla camera numero 2. Chiudiamo i parametri della numero 2, andiamo nella sezione camera options, attiviamo il depth of field e in questo caso voglio che sia l'inizio sia la fine dell'animazione sia sempre a fuoco la famiglia. Quindi mi posiziono sul primo frame della camera numero 2, agisco su focus distance, porto indietro il piano della messa a fuoco finché non coincide con la posizione della famiglia. Eccoci qua ci siamo come vedete la linea rosa esattamente dello stesso punto della famiglia. La famiglia a fuoco però vogliamo che tutti gli oggetti sullo sfondo, anche i più vicini, siano sfocati. Quindi dobbiamo aumentare l'apertura un poco di più rispetto alla camera 1. Quindi agisco su apertura e in questo caso un valore adatto direi che può essere intorno ai 70-80. Come vedete adesso la famiglia rimane a fuoco e gli altri oggetti, anche quelli più vicini, sono già fuori fuoco. La macchina per esempio vedete che è comunque un poco sfocata. Bene, ora se prendo il cursore e vado sull'ultimo frame della camera, in questo momento la camera è avanzata e il piano della messa a fuoco non si trova più sulla famiglia, si trova più avanti e quindi in questo momento dovrai riportare la focus distance indietro e quindi in questo caso particolare dovremo fare un'animazione sulla focus distance. Quindi di nuovo riportiamo il cursore sul primo frame della camera. Accendiamo l'orologio di focus distance per fissarlo sulla posizione della famiglia. Riportiamo il cursore sull'ultimo frame e ora correggiamo la focus distance riportandola indietro di nuovo sulla famiglia, così. E come ben si vede qui nel monitor di destra, la famiglia torna di nuovo ad essere a fuoco. Quindi anche se la camera avanza, la focus distance si trova sempre sulla famiglia. La famiglia è sempre a fuoco durante questo carrello in avanti. Benissimo, adesso possiamo finalmente fare una preview finale dove avremo sia i movimenti di camera sia la messa a fuoco. Ottimo! La lezione di oggi finisce qua. Nella prossima lezione prenderemo in considerazione nell'illuminazione, quindi le luci e le ombre. Benissimo, quindi ci vediamo alla prossima. Ciao!